amici sportivi di canale 5 allo stadio olimpico per il derby del cuore scendono in campo tra gli altri enrico montesano carlo verdone raul bova fabrizio frizzi ray lovlak ninetto davoli claudio amendola nino d'angelo umberto tozzi pino insegno gene gnocchi roberto ciuffoli francesco salvi toni sant'agata corrado tedeschi un grande evento di calcio e spettacolo il cui incasso sarà interamente devoluto in beneficenza per il derby del cuore lazio roma mercoledì alle 20 e 40 sul canale c